Salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi vi porto tutte le statistiche dei proiettili che ci saranno per la prossima patch Che ci sarà tra il 19 aprile, quindi non so se è domani l'altro o domani per voi Dipende, per me oggi è il 17, potrebbe essere il 17 anche per voi o il 18 per voi Però il 19 aprile esce la nuova patch Infatti per l'occasione, come già avevo detto, alle 9 e mezzo farò una live Dove giocherò con voi iscritti anche Quindi vi consiglio a tutti di entrare nel Discord perché dovrete essere nel mio Discord Che vi lascio in descrizione, c'è il link sempre in descrizione se volete entrare nel Discord Che c'è già un po' che vi spiego come funzionerà durante la live e anche nel Discord Se la patch esce prima, la live inizierà prima Allora, molte persone mi chiedono sempre quali sono i migliori proiettili da utilizzare Che alla fine diciamo più in endgame servirà questa cosa per il fatto che abbiamo tutti i proiettili Però magari anche per iniziare, ora magari ci saranno proiettili nuovi Proiettili, magari toglieranno qualche proiettile per iniziare Quindi non sapremo però Vediamo qua tutte le statistiche Cercherò di farlo più breve possibile E a fine, se magari non vi interessa vederlo tutto Andate direttamente a fine Che andremo a prendere i vari singoli proiettili più potenti delle varie armi Allora, possiamo iniziare con quelli dei fucili a pompa Quindi qua siamo per i fucili a pompa Qui abbiamo i 366 TKM Che i 366 sono praticamente quelli della KM VPO Quindi sono i... insomma i .366 Allora, partiamo da questi che sono praticamente gli shotgun Che saranno le cose che inizialmente avremo insieme alle pistole Allora, di shotgun abbiamo tre tipi Abbiamo i backshot, gli slug e altri backshot I 20x70, se non mi sbaglio, sono quelli del... del TODZ Mentre i 12x70 sono i classici pallettoni Cioè, allora I classici pallettoni, i backshot Che funzionano perché fanno una rosa quando spari Mentre gli slug sono quelli a colpo singolo Te spari e proprio il proiettilone enorme vola via Quindi, se volete fare comunque diversi danni Se ne avete uno vicino è molto utile i backshot Altrimenti andiamo di slug Col backshot magari non lo omissiamo se ce l'abbiamo davanti Con lo slug possiamo Perché è come sparare un colpo solo Backshot, il prezzo iniziale a me non interessa Quindi andiamo a vedere direttamente queste cose Danno 32 di danno I backshot La penetrazione è 3, quindi non è tantissima la penetrazione Velocità 320 che non è malissimo Quindi ovviamente per cose ristrette Quindi Factory o anche Interchange Che uscirà pure Interchange in questa mappa E mi sa che nella live faremo esclusivamente Interchange Vediamo un po' Ricochet e Chance è rimbalzo Quindi non hanno possibilità di rimbalzare E non possono Non c'è la chance che Lasciano dei frammenti Gli slug Gli slug Danno sarà 165 Quindi tantissimo il danno 10 di penetrazione Che è un botto È davvero un botto 10 di penetrazione Per un fucile a pompa 370 di velocità Quindi niente male 50 metri Possono salvare la vita E distruggere quella del nemico La probabilità di rimbalzo È di 0,1 Quindi un cazzo E c'è la possibilità Che si possono frammentare Mentre quelli del Toads Faranno 20 di danno Quindi una sega Quindi se avete uno con la Fort Armor O è già mezzo morto O glielo lanciate Forse fate più danno Penetrazione 3 Quindi ritorniamo come il Buckshot Distanza di velocità uguale E tutte le statistiche 0,0 Poi andiamo a vedere Quelli della KM VPO Vi lascerò Da una parte Comunque Tutti Le immagini Dei proiettili In modo che capite Un po' meglio Se ci riesco Ovviamente Forse uno Per ognuno Giusto per farvi vedere Come sono fatti Allora Quindi questo abbiamo visto Andiamo a vedere 366 Danno 63 Quindi qua iniziamo a vedere Un po' di danno Per Rispetto agli altri 63 di danno 15 di penetrazione 770 di velocità La probabilità di rimbalzo 0,1 e 0,2 per i frammenti Mentre gli FMJ Fanno 69 di danno Quindi un po' più di danno Penetrazione 12 Quindi peggio rispetto all'eco Sono più lenti La possibilità è ancora più bassa E un po' più alta Quella dei frammenti Andiamo a vedere I gesca Sempre di 366 Fanno molto più danno Hanno molta meno penetrazione Dei primi due Vanno meno lenti Hanno meno probabilità Che rimbalzino E più probabilità Che creino dei frammenti Quindi fra questi Io prenderei Gli FMJ Perché sono Hanno più bilanciamento Forse per la velocità Gli eco non sono male E' difficile qua Perché comunque Anche la velocità Conta Anzi Forse quasi quasi L'eco Perché il danno E' di 5 Vanno più veloci Quindi ne arrivano di più E quindi Qui prendiamo gli eco Si Però comunque Come ho detto prima A fine video Prendiamo tutti I proiettili più potenti Che abbiamo visto Qui abbiamo i 545 39 Che sono quelli Della K Quindi BP Ne abbiamo diversi Insomma Prima si usavano i BP Ok Nella patch prima Erano Diciamo Quelli che erano Dentati più forti Ora vediamo Allora Danno 42 40 di penetrazione 890 di velocità 0.36 probabilità Di rimbalzo E 0.16 Quindi qua Eeeh Non sono male Come Come danno Ci sta Anche se fanno Meno danno Dei 366 Ma sono grossi Dei 366 IBS Eeeh 40 48 di penetrazione 830 di velocità 0.38 di probabilità Rimbalzo E 0.17 Di chance Che si frammentino Poi questi non so Cosa siano Quindi Sti cazzi IBT 44 di danno 42 di penetrazione 880 di velocità 0.37 di chance Di rimbalzo E 0.164 probabilità Dei frammenti Eeeh Andiamo a vedere Gli FMJ E qua iniziamo a vedere Più danno Rispetto agli altri 58 danno Ma meno Penetrazione Mh Velocità Quasi alla pari 0.26 di chance Di Eeeh Rimbalzo E 0.25 di probabilità Di Eeeh Che si frammentino Quindi Tra i BP Questi hanno più probabilità Che si frammentino Poi abbiamo Gli HP Eeeh Fanno 70 di danno Quindi qua vediamo Un bel danno 10 di penetrazione Che Fa Eeeh Schifo Rispetto a prima Perché gli HP Sono praticamente Eeeh Non so qual è proprio Quello vero Non me lo ricordo L'avevo letto prima Però Prendiamo come health points Perché comunque L'idea è quella Che fanno danno Ma non Penetrano le armature Tantissimo Infatti Già lo vediamo qua Poi 880 di velocità Di Velocità 0.2 Probabilità di rimbalzo E 0.35 Di Probabilità di Eeeh Di Che si frammentino Poi Iniziamo a vedere I PP Che danno Torniamo giù A I suoi fratelli Iniziali 35 Di penetrazione Che fanno Più schifo Rispetto a quelle di prima 890 di velocità Quindi qua Torniamo a preferire I BP 0.38 Di probabilità di rimbalzo E qui troviamo Torniamo a preferire I BP 0.17 Di probabilità di Finalmente E qui torniamo a preferire I BP Di poco Poi Torniamo a preferire I PRS Che anche questi Si credevano Erano i migliori Però qui si vede Fanno Ok Più o meno Però non penetrano Fanno 63 di danno Penetrano pochissimo 890 di probabilità Di velocità 0.04 di rimbalzo 0.3 di frammento PS 50 di danno 32 di penetrazione 890 di velocità 0.04 di rimbalzo 0.2 di frammenti SP 68 di danno 18 di penetrazione 873 di velocità 0.15 di rimbalzo 0.45 di frammenti Poi troviamo Poi troviamo I T Che sono i traccianti Che sono Fanno 58 di danno 20 di penetrazione 883 di velocità 0.4 di probabilità di rimbalzo E 0.16 di frammenti Poi troviamo Gli ultra slow Che Questi sono Forti Più o meno Fanno 65 di danno 15 di penetrazione 303 di velocità Quindi sono Molto lenti 0.4 di probabilità Di Di rimbalzo 0.1 di frammenti Allora Perché sono così lenti Se non mi sbaglio Se non erro Più lento il proiettile E meno rumore fa Se non mi sbaglio Se non dico cazzate E quindi Comunque Se fa meno rumore Se lo silenziate È quasi inesistente Allora Qui arriviamo a quelli della K Della M4 Mi sono sbagliato Qui arriviamo Quelli della M4 Quindi abbiamo 56 di danno 25 di penetrazione 956 di velocità Che è tantissimo 0.26 di rimbalzo E 0.5 di frammenti Io utilizzo molto Gli FMJ Quasi solo quelli 66 HP Che troviamo una volta Che gli HP Sono quelli che non devono fare Tanta penetrazione Ma sono più per il danno Infatti Penetrazione Troviamo 18 Sono di 10 metri al secondo Più lenti Hanno quasi la stessa La probabilità di rimbalzo E 0.7 Più altra probabilità di frammenti Poi troviamo Gli M855 Che fanno 57 di danno 22 di penetrazione 922 di velocità Quindi vanno ancora più lenti Più probabilità di rimbalzo E meno probabilità Che si frammentino Qua troviamo Qua troviamo Gli M855A1 Che fanno Meno danno Degli altri Che abbiamo già visto Penetrano di più Rispetto a tutti Quelli che abbiamo visto 945 di velocità Che non è male Vista un po' Vista la penetrazione Danno e velocità Questi non sono affatto male 0.38 quindi Meno probabilità di rimbalzo E meno probabilità di frammenti Poi troviamo Gli M856 Che fanno più danno Di tutti i suoi amici Più o meno No Non fanno più danno Dei suoi amici Ma non fanno un brutto danno Le media Più o meno La penetrazione Rispetto ai suoi compagni Molto meno veloci La stessa Le stesse probabilità Di quasi entrambi 0.38 di rimbalzo E di frammenti 0.32 Non so se vi interessano I frammenti Quindi magari Io adesso vi dico Le tre cose Che magari La gente va più a vedere Dai Quindi vediamo Gli M856 A1 58 di danno 29 di penetrazione 940 di velocità Che non è male Poi vediamo Gli M995 Che non fanno danno Ma penetrano Tantissimo Cazzo E vanno velocissimi Puttana Questo non lo sapevo Infatti facevo bene Ogni tanto utilizzare Cioè se voi trovate Uno con una fort Forse Avete più probabilità Cioè ad esempio Uno con l'FMJ Per fare lo stesso danno Che fa questo Deve sparare due volte Però Bisogna ancora capire Un po' Quando magari Il proiettile Riesce a penetrare Ma è più lento Quando penetra Quindi fa meno danno Ancora sta cosa Non si sa se esiste Non lo so Quindi Torniamo a Questi qua Che penetrano tantissimo Li ho persi Gli M995 Quindi Questi non li dobbiamo scartare Anche se fanno poco danno Ma per la penetrazione Non li dobbiamo scartare Qua Dicevamo Gli Mk255 Che Non male il danno Penetrazione Me Tutto me Quindi questi li scartiamo Già all'inizio Qui iniziano quelli Della Titti 762 25 Sono della Titti Lo dice anche Il compagno Che Ce ne erano alcuni Che si usavano solo Quelli che facevano male Che Teoricamente Saranno Questi Allora Boia Vedo già Delle penetrazioni Che vai solo Con quella Allora Qui Quanti ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 Tipi diversi Qui andiamo veloci Io utilizzo tantissimo La Titti Non so voi Comunque 60 di Ah aspetta Ho sbagliato Io guardavo questi Penetrazione Vediamo un po' 60 di danno 8 penetrazioni 427 velocità Gli LRN 64 di danno 6 penetrazioni 375 velocità LR Quello lì 66 di danno 5 di penetrazione 375 di velocità I GI 58 di Danno 10 di Di penetrazione 430 di Velocità PSTG Z H 50 di Danno 19 di Penetrazione 430 di Velocità TG Z H 60 di Danno 12 di Penetrazione 415 di Velocità I AKB BS 58 di Danno 9 di Penetrazione 425 di Velocità Quindi diciamo Questi Non saprei Bisogna vedere Gli altri Delle altre Pistole Ora qui Iniziano Quelli Delle Signorine Dei signori SKS AKM Cose qua Allora Ippi Io di solito Utilizzo Ips Se non mi sbaglio Di questi Ps Esatto Allora Allora Vediamo qua Ippi 48 di Danno 46 Penetrazione Quindi Quasi Pare Niente Male E 730 Di Velocità Poi HP Ancora una Volta Che questi Sono Concentrati Sul Danno A Pelle 78 Di Danno 15 Di Penetrazione 754 Velocità Quindi Sono Più Veloci Ps 56 Di Danno 34 Di Penetrazione E 700 Di Velocità T 45 M 63 Di Danno 30 Di Penetrazione 720 Velocità Gli Ultra Slow 68 Di Danno 19 Di Penetrazione 300 Di Velocità Poi ci sono Gli M 61 Ah no Ok Erano Questi Poi ci sono 7 62 51 Questi Sono Quelli Del Dvl R Sass Quindi Andiamo a vedere Che Il Danno Non è Male Insieme Alla Penetrazione Quindi Vediamo Gli M 61 Fanno 60 Di Danno 68 Di Penetrazione Sono 849 Metri Al Secondo Gli M 62 Che sono Quelli Che Utilizzavo Io Forse No Erano Gli M 61 69 Di Fanno 68 Danno 50 Di Penetrazione 833 Di Velocità Poi Arriviamo A quelli Che Questi Tre Sono Del Dvl Quindi Questi qua Fanno 70 Di Danno 45 Di Penetrazione 870 Di Velocità 68 Danno 55 Penetrazione 865 Velocità 58 Danno 70 Penetrazione Cazzo 875 Di Velocità Quindi Niente male Niente male Ora Vediamo 9x18 Quindi Tutti Quelli Che Vanno Sulla Allora Fatemi Pensare 9x18 La Non mi viene Il nome La Makarov Ce ne sono Un botto Allora Siamo quasi A fine Se Dio Vuole Siamo a 20 minuti Cazzo E doveva Durare Di Meno Allora Signora Makarov 44 Di Danno 8 Penetrazione 325 Di Velocità 39 Di Danno 8 Di Penetrazione Qui c'è Qui 119 Di Velocità 59 Danno 8 Penetrazione 420 Velocità 58 Danno 5 Penetrazione 297 Velocità Un Cazzo Poi Ok che comunque sto dicendo solo danno cose Il nome magari ve lo leggete perché se mi metto a leggere il nome e poi tutte le cose la mia lingua impazzisce non riesco più a parlare Quindi Perdonate Allora Quindi siamo rimasti PRS GS 56 Di Velocità Di Danno Ecco già che iniziamo 5 Di Penetrazione 302 Velocità 54 Danno 5 Penetrazione 315 Velocità Poi vediamo 49 Danni 7 Penetrazione 298 Velocità 68 Danni Niente male Quelli con più danni che abbiamo visto finora 5 Di penetrazione 280 Velocità Un po' lentini Ehm Cioè lentini Più che velocità E i metri che fanno Però si dai velocità Eh Quella Velocità Ehm 53 Di danno 6 Di penetrazione 330 Velocità Ehm 53 danno 5 Penetrazione 302 Di velocità Poi vediamo 51 Di danno Aspettate Ok no Pensavo di essere già arrivato a 19 51 Di danno 7 Di penetrazione 330 Velocità Ehm 70 Di danno 6 Di penetrazione 420 Quindi per ora abbiamo trovato quelli che fanno più danno Ehm Non so Sono Eh Un ottimo bilanciamento Quindi forse questi Eh Saranno nella categoria Migliori 67 Di danni 3 Di penetrazione 250 Di velocità Ora Passiamo A quelli di Delle Delle Grange MP443 Ehm Le MPX MP5 Tutte le mitragliette Allora Eh Tranne il Cadre Il Cadre Utilizza i 9x18 Allora Eh Qui ne abbiamo pochi Perchè in effetti Si Utilizzo sempre I PST GZH E vediamo Se facevo bene Allora Danno Pso GZH 63 Di danno 13 Penetrazione 340 Di velocità Mentre Pst GZH Fanno 56 Di danno 18 Di penetrazione 457 Di velocità Quindi bilanciato Bene Ehm Mentre I lager Che sono quelli Che Si preferiva Che fanno Molto danno 10 Di penetrazione 420 Di velocità Quindi Penetrazione Non è tantissima Quindi sono un po' Come Gli HP Del resto D Delle armi Ok Finiti Quelli Delle mitragliette Arriviamo A quelli Della Shrimp Ehm Quindi C'è un 9x21 Ah magari Hanno aggiunto Aggiungono la pistola nuova Quindi non so Quale utilizzerà Quindi lo vedremo Però Comunque Sono quelli Del lager 9x21 E qui ne abbiamo Si Del lager Della shrimp Ne abbiamo Uno Due Abbiamo Quattro tipi Vediamo Gli SP Allora Dicono che i 13 sono meglio Vediamo Allora Gli SP 10 fanno 45 di danno 23 di penetrazione 410 di velocità Gli 11 fanno 66 di danno 12 di penetrazione 413 di velocità Gli SP 12 72 di danno Non male il danno 10 di penetrazione 415 di velocità Mentre gli SP 13 48 di danno 25 di penetrazione Abbiamo trovato Più penetrazione Degli altri 397 di velocità Finiti quelli Del Del coso Della shrimp Arriviamo a quelli Del Val Che per chi Mi conosce Per chi mi segue Da quando ho iniziato Sa che io sono Un fetish Del Val È la mia arma Preferita In assoluto È bellissima Allora Gli SP SP5 68 di danno 25 di penetrazione 290 di velocità E poi arriviamo Agli SP6 Che sono quelli Che utilizzo Sempre io Fanno 58 di danno 32 di penetrazione 305 di velocità Ok Quindi Andiamo in ordine Di come abbiamo iniziato E Tiriamo fuori Le conclusioni Dei migliori Proiettili Per I vari tipi Di armi Quindi niente Credo che siamo a mezz'ora Di video È tantissimo Per Una controllata Le statistiche Ma Se queste cose Credo che Non le faccio io Su YouTube Che Spero sia così Spero di essere Un punto di riferimento Per quelli Che vogliono iniziare A vedere A giocare A The Skip From Tarkov Vogliono semplicemente Vedersi qualche video Su YouTube In Italia E Quindi Spero di essere Comunque Un punto di riferimento Siamo una bella community Davvero Perché il torneo Comunque Per chi ci è stato È andato Benissimo Ci siamo divertiti Io e Carlo Barram Ci siamo divertiti Un sacco Che Trovate il link In descrizione In basso Tra gli amici streamer Quindi Siamo comunque Una bella community Ci aiutiamo tutti quanti Infatti ho visto Stanno facendo dei lavori Ai cabinet Della fibra Ancora Quindi speriamo bene Una volta Che mi arriverà La fibra Mi sposterò Su Twitch In modo che Potremo diventare Tutti ancora più uniti E Tra community Di italiani Che giocano Quindi niente Ragazzi Io spero che Questo video Vi sia stato utile Magari siete arrivati Soltanto alla fine Per vedere Per contare Quelli Vedere quelli Più potenti E Vi ricordo Che Giovedì 19 aprile Alle nove e mezzo O anche prima Ci sarà la live Per il wipe Nella speranza Che ci sia Veramente Perché così hanno detto Se ritardano Yamaha Quindi sono Sono carichissimo Giocherò con voi Iscritti Quindi vi ricordo Di andare nel canale Discord Che trovate il link In descrizione Su Discord Scriverò Come funzionerà E lo spiegherò Anche a inizio live Però Comunque andate in Discord Così vi spiego Come funzionerà E Cercherò di giocare Insieme A tutti quelli Che vogliono giocare In live Nella speranza Che la connessione Mi permetta Di andare avanti Per un bel po' Senza problemi Quindi niente ragazzi Io vi ringrazio Per la visione Spero che vi sia stato Molto utile Questo video Lo spero davvero tanto E Quindi niente Noi ci vediamo Giovedì E Anche in un prossimo video Vi ricordo Che se C'è Da ora Fino a che non arriva La fibra C'è dalla live Fino a che non arriva La fibra Non ci saranno più live Ma usciranno Due video a settimana Cercherò di impegnarmi Per farvi uscire Due video a settimana Visto che comunque Ci sarà Wap in Tarkom Ci giocherò tantissimo Registrerò di più E quindi Quindi niente Quindi ricordatevi Che il 19 Sarà la ultima Fino a che non mi arriva La fibra E appena mi arriva La fibra Farò un video dedicato E andremo tutti Su Twitch Che ci trovate Già il link In descrizione Quindi se volete Già andare a mettere Un follower Prepararvi Quindi niente Adesso è veramente tutto Vi ringrazio ancora Se magari Ve lo siete visto Tutto Vi ringrazio veramente Tanto per essere Arrivate fino alla fine Del video E niente Io Vi ringrazio ancora Per la visione E a un prossimo video Ciao ciao Ciao